In questo video sveliamo un po' della storia di Padre Camillo, cerchiamo innanzitutto di capire cosa nasconde. Svolta importante nelle puntate italiane della promessa, in onda nelle prossime settimane. Ad un certo punto, ai telespettatori, verrà infatti dato modo di scoprire per quale motivo Padre Camillo ha fatto di tutto pur di farsi ospitare nella tenuta di Alonso e Cruz. E tutto ciò, inaspettatamente, avrà a che fare con Cimena de los Infantes. La promessa? Trame. Gli strani comportamenti di Padre Camillo. Fin da subito Camillo ha avuto un atteggiamento piuttosto insolito. In primis, si è avvicinato tantissimo alla devota Petra Arcos, per cercare di estorcerle delle informazioni sulle abitudini di tutti gli abitanti della promessa. Inoltre, con il proseguire della narrazione, il sacerdote cercherà senza successo di guadagnarsi la fiducia del maggiordomo Romulo Baeza e quella della governante Pia Adarre, facendo poi lo stesso, e sempre con scarsi risultati, con Gianna Exposito. Ciò finché il prete non arriverà anche a chiedere insistentemente a Leonor de Lujan, durante il sacramento della confessione, il nome del presunto uomo sposato con cui intrattiene da mesi una relazione. Tutti tentativi che, come già spiegato, andranno in fumo, ma che porteranno comunque Camillo a ricevere e a mandare dei foglietti ad una persona misteriosa. La promessa? Spoiler. Ecco da chi è mandato Padre Camillo. La risposta all'enigma si avrà quando Manuel de Lujan si dirà pronto a chiedere ufficialmente la mano di Ximena ai duchi Don José Luis e Mercedes de los Infantes. Ovviamente, alla promessa verrà allestita una grande cena per accogliere al meglio la bella notizia, con tutti gli inservienti capitanati da Simona e Lope che si impegneranno affinché tutto il cibo servito sia il migliore possibile. Appena metterà piede nella tenuta, José Luis mostrerà però interesse per Padre Camillo e, guarda caso, chiederà alla figlia di presentarglielo. Dopo qualche attimo, il duca asserirà dunque di avere un problema di fede da risolvere e ne approfitterà per stare da solo con il prelato. Non sarà quindi difficile riunire tutti i tasselli del puzzle per capire che è stato proprio José Luis a mandare Camillo nella tenuta. La promessa. News. Camillo in combutta con José Luis. Eh sì! Nel corso del dialogo, Padre Camillo farà presente a José Luis che dal suo punto di vista, Ximena è ben voluta alla promessa, ragione per la quale G.Y. Lee dirà che Manuel si prende cura a lei come un fidanzato devoto e intenzionato a renderla felice nel più breve tempo possibile. Proprio per questo, il duca de los Infantes non opporrà resistenza quando, nel corso della cena, Manuel si inginocchierà di fronte a Ximena e, con un anello in mano, chiederà ufficialmente la sua mano. Una richiesta che avverrà sotto gli occhi della gelosissima Iana, con Padre Camillo che sembrerà avere portato a termine il suo compito, spiare i de Lujan per capire se Ximena potesse sposare Manuel. Vi anticipiamo però che il sacerdote riserverà ancora parecchie sorprese. Nelle prossime puntate della promessa, Catalina smaschererà il finto prete e lui si rivelerà essere molto pericoloso. La promessa continua con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni annunciano il vero volto di Padre Camillo. Il prete, appena arrivato al palazzo, ha già destato la curiosità di molti per il suo strano atteggiamento. Presto si scoprirà che è un impostore mandato dal padre di Ximena per indagare sulla famiglia di Manuel. Quando Catalina smaschererà il nuovo ospite, tuttavia, l'uomo si rivelerà più pericolo del previsto e, dopo aver legato Alonso e il sergente Funes, terrà in ostaggio l'ope minacciando tutti con un'arma da fuoco. Anticipazioni. La promessa. Padre Camillo non è chi dice di essere. Le anticipazioni della promessa raccontano che presto Padre Camillo sarà sempre più protagonista. Arrivato al palazzo con il pretesto di fare una piccola sosta, il prete è riuscito a conquistare la fiducia di Petra e a restare più a lungo dopo un presunto pestaggio subito. Con il passare dei giorni, Padre Camillo inizierà ad essere sempre più insistente con le sue domande al personale, tanto da insospettire la servitù e gli abitanti del palazzo con il suo atteggiamento. In particolare, Jana e Donia Pia intuiranno che l'uomo sia lì per conto di qualcun altro. Ma di chi si tratta? Abbiamo visto che dando uno sguardo alle anticipazioni provenienti dalla Spagna, Padre Camillo sta indagando sulla situazione della famiglia Luian per conto del padre di Shimena. L'uomo, infatti, vorrà sapere se Manuel sposerà sua figlia per amore o per interesse. Anticipazioni prossime puntate. Catalina chiamerà la diocesi. Le prossime puntate della promessa metteranno sempre più in evidenza il personaggio di Padre Camillo. In un primo momento, tutti penseranno che il prete sia solo curioso e invadente, ma un biglietto desterà sospetti su di lui. Sei stato lì troppo a lungo e non abbiamo avuto ancora tue notizie. Abbiamo bisogno di risultati, si leggerà. Il prete non esiterà a rispondere che ha bisogno di più tempo e Gianna capirà che non è un uomo affidabile. A smascherare Padre Camillo sarà Catalina, che chiamerà la diocesi chiedendo di lui, e scoprirà che è solo un impostore perché non esiste nessun prete con quel nome. La promessa anticipazioni. Lope tenuto in ostaggio dal finto prete. Le anticipazioni della promessa rivelano che Padre Camillo si rivelerà molto più pericoloso del previsto. Catalina avvertirà Alonso di quanto ha scoperto e il marchese non esiterà a chiamare il sergente Funes. Padre Camillo, messo con le spalle al muro, aggredirà il poliziotto terrorizzando con una pistola tutti gli abitanti del palazzo. Dopo aver sentito alcuni spari, Catalina, Martina, Cruz e Ximena si rifugieranno nella camera di Manuel. Il falso prete prenderà in ostaggio Lope e imbavaglierà Alonso e il sergente Funes. Quando Catalina uscirà dalla stanza per andare a vedere cosa sta accadendo, troverà suo padre e il sergente legati e li libererà, mentre Padre Camillo terrà Lope in ostaggio in cucina.